Oggi c'è la prima sfilata, la prima domenica, la 76esima edizione del mandorle inviore, un evento fantastico per Agrigento, è un preludio, il battesimo per questa grande opportunità del 2025 di Agrigento Capitale della Cultura. La festa sta proseguendo in ordine, ringrazio quindi, e con l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine e tutti i volontari che stanno contribuendo a farla svolgere con massima sicurezza. Agrigento è una città che sta lanciando questo grido, sta lanciando un grido di pace, di abitizia, di fratellanza in tutto il mondo e quello che vedete voi alle mie spalle è la dimostrazione di quanto appena ho detto. Andando ieri abbiamo registrato il secondo sold out, quindi il previe della Sagra il 24 febbraio è andato bene, ieri il primo spettacolo vero della Sagra è stato un sold out, ancora una volta con la musica etnica, è tutto un ritorno alle tradizioni e capiamo che la gente desiderava proprio questo, un ritorno alle antiche tradizioni della festa, un carro allegorico che apre la sfilata come si faceva negli anni 50-60, una serie di iniziative, il vecchio luogo, una serie di iniziative che riportano la Sagra ai valori dei padri fondatori. Il prossimo importante evento è martedì alle 18, al Tempio alle 17 parte la sfilata, alla fiaccolata che culminerà nell'accensione del Tripodo della Pace, quest'anno sarà una cerimonia particolare perché abbiamo pregato tutti i gruppi di portare un pugnetto di terra dalla loro nazione, questo sarà mescolato in un calderone comune e da Grigento si partirà la terra della pace, un messaggio internazionale di pace tra i popoli. La giornata di oggi è la prima domenica che ha bistrata la festa, è un messaggio internazionale che è diventato importante al mondo per la famiglia di partenze, la famiglia che si scolge e poi la famiglia che comincia nella parte dei tempi dove centinaia di bambini provenienti da tutto il mondo ogni anno celebrano i valori della pace, della ricchezza e della fratellanza. E' il modo migliore per aprire questa straordinaria festa che ha una storia di 76 anni. La giornata di oggi, la prima domenica che ha visto la 76esima edizione del Mandorle in Fiore mettersi strada con questa sfilata è andata benissimo, una giornata bella ricca di gente, tanta gente ha affollato la nostra città, il nostro centro storico, quindi buona la prima come si suol dire. Il Mandorle in Fiore sicuramente è l'essenza di quello che è il concetto di capitale eterna della cultura, quindi il mettere insieme tanti popoli, le relazioni, le diverse culture che si intersecano e che innalzano il nostro livello di conoscenza e anche di cultura nel vero senso della parola. Per capitale della cultura ci sono in previsione tantissimi eventi e quindi siamo al lavoro costantemente per fare una grande capitale italiana della cultura. La fiaccolata per volontà del sindaco ritorna anche nella parte bassa della città, quindi la fiaccolata non si fermerà al Ghella Vittoria ma arriverà fino allo stadio. vorremmo sentire anche i vostri strumenti. Una settimana intensissima di avvenimenti con in primo piano proprio la città, perché gli organizzatori, il sindaco, il coordinatore e tutti gli altri hanno detto che la città vive la sua festa. Quindi mattina e pomeriggio per tutta la settimana ci saranno qui in Piazza Cavour, in Via Atenea e in altri posti della città l'esibizione dei gruppi per questo abbraccio della città di Agrigento con il folklore internazionale.